Ripartiamo da qui, ripartiamo ancora da, Marcello l'aveva citato, uno dei progetti che avevamo già anche fatto vedere, quella di uno studio di Milano, se non sbaglio, quella di Umberto Palermo, possiamo andare in onda queste immagini, l'avevamo già viste, della loro presentazione, del loro piano, ma ne avevamo visti anche altri. Sì, questo l'avevamo visto in un finale di una puntata di tutto derby della scorsa primavera. Sì, ma ne avevamo visti anche altri, di progetti di questo tipo per lo Stato di Filadelfia. Questo tiene addirittura in piedi, se non sbaglio, i due monconi. La tribuna però non è, ad esempio questo progetto, Marcello non risponde ai requisiti, perché tiene in piedi i due monconi ai lati, che vengono sostanzialmente ristrutturati, li vedete, uno è qua e l'altro è qua, quello che rimane in piedi, però la tribuna centrale per esempio è divisa in due, cosa che non sarebbe prevista. Non lo so, questi sono i miei. E la unisci, cioè. Vedete, perché tengono in piedi tutto quanto resta, ed erano i sostegni della tribuna di legno che ancora adesso ci sono. Scusa, ma bisogna tenerli per forza in piedi, questi monconi? No, non credo. Non credo che ci siano dei vincoli in questo senso. Ormai per tenere in piedi quei monconi lì, soltanto per, così, per ricordo, per cimelio, mi sembra che è abbastanza assurdo, no? Ne rifasciamo uno nuovo e basta. Beh, qua ci sarebbe il cortile, però mi sembra che già abbastanza rispondente. Per carità, adesso io non mi addentro nemmeno in questo argomento, perché è un argomento questo, un altro argomento delicato, dove ne parla uno che non è del Torino e incominciano a dirti, tu, Gobbo, devi stare zitto, tu non puoi parlare delle nostre cose, tu non ne sai niente della nostra storia, quindi sai mettere bene queste cose, uno ve lo voglia. fatevelo, prima che ve lo fate, fatevelo piuttosto con i vostri soldi e non con i soldi della... Te l'ho detto, sono stato molto chiaro in questo senso qua, non deve essere la politica, non deve essere l'istituzione a ricostruire il Filadelfia, ma ci deve essere un impegno in primis della società, perché poi lì non ci va a giocare De Marzi, Chirico, Galo, ci va il Torino FC e quindi se non è il Torino FC a tirare le fila di questa vicenda e a fare il capofila della cordata, che sarà comunque importante mettere in piedi per realizzarlo, e chi lo deve fare? Sarebbe assurdo che fossero i privati o le istituzioni che sono convinti che faranno la loro parte, ma in primis la deve fare il Toro, quindi Presidente Cairo, non faccia chiacchiere che ne ha fatte già troppe su questa vicenda, ma scenda sul concreto e dica quanto intende investire, perché questa è una cosa che gli darebbe un ritorno di immagine straordinario, oltre che un ritorno economico, perché far rinascere il Filadelfia sarebbe anche poi un affare dal punto di vista economico, non scherziamo, per cui un impegno serio e concreto. Che deve essere una cosa che serva, che non sia solo una cosa a sesta, che facciamo quattro tribune, dove c'è il museo, dove c'è la sede, dove ci sia un'area viva sette giorni su sette, non deve essere solo un ricordo alla storia del grande Torino, che è straordinaria, a quello ci deve pensare il museo, che sarà ospitato e dovrà essere ospitato in quest'area, ma per rendere viva e vivibile sette giorni su sette, perché deve essere un'opera architettonica, come posso dire, a tutto tondo. Mi aspetto su questo il Presidente Cairo, è tornato a fare bene il Presidente per quanto riguarda la gestione della prima squadra, la scelta di ventura, l'aver fatto un certo tipo di mercato, completi l'opera e i tifosi del Toro gliene daranno merito a lungo, perché veramente questo gli farebbe riguadagnare una popolarità infinita, ricostruire il Filadelfia è una cosa straordinaria, che rivaluta e farebbe cancellare tante cose invece che Cairo non ha fatto o ha sbagliato in questi anni, assolutamente. Allora, restiamo al Toro, poi chiudiamo con la Juve, magari ci sono tante notizie per esempio di mercato.